I mesi che ci alleniamo e non vediamo l'ora di scendere in campo, domani finalmente questo accadrà e ci ammetteremo tutta. Io personalmente sono veramente eccitato. Sì, ho avuto un po' di sfortuna, ho avuto un piccolo infortunio ancora nel 2011 nei mondiali in Italia, Under 20, successivamente prima del mondiale 2015 in Inghilterra mi sono rotto il ginocchio, dovuto rinunciare, ma finalmente è arrivata l'opportunità. Sono esperienze nuove, non ero neanche a conoscenza se ci fosse un cap per il mondiale, infatti la cerimonia è stata bellissima ed è stata veramente emozionante. Tanti sforzi, tanti sacrifici che sono stati ripagati, è veramente bello. Ci aspettiamo di tutto Romani, dobbiamo scendere al 100% e puntare a fare il massimo dei punti e sfruttare ogni occasione. Abbiamo visto anche ieri la dimostrazione con la Russia che ha messo in difficoltà il Giappone per più di un tempo e la Namibia farà lo stesso. Cercheremo di imporsi fisicamente con i nostri primi uomini per poi ricercare spazi a largo una volta che la difesa si dovesse stringere e adesso c'è un po' l'incognita nel tempo perché la partita sarebbe un po' più complicata se dovesse piovere, ma abbiamo anche lì un game plan, quindi ci adatteremo alla situazione.